vabbè, mi fermo qui eh grazie a chi è rimasto, grazie a a GDC, a Cinghiale Bianco a Vale di GT, anche se stasera non è passata a DigiDestroyer a Il Corriere, che è venuto anche Il Corriere poi ai nuovi due amici, Ganserrosis e Nicola Wind, non so se l'ho detto bene quindi, ciao a tutti, ci vediamo domani il prossimo stream, cioè oggi, non domani ciao, 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 ciao grazie Cinghiale numero uno, sempre ok grazie a tutti